Ciao, oggi ti parlo brevemente delle superfici all'interno di Fusion, sono uno dei metodi di modellazione che possiamo utilizzare all'interno del programma e ci permette di andare a creare degli oggetti che tendenzialmente sono più complessi di quelli che possiamo andare a modellare con la modellazione tradizionale, quella solida, che abbiamo visto finora. Per esempio questo casco di Iron Man, che come vedi ha delle curvature molto particolari, alcune anche abbastanza complesse, che sarebbe veramente difficile andare a modellare con i comandi che finora ti ho mostrato su questo canale. Come funzionano le superfici? Si vanno a creare come delle pellicole, dei fogli di carta quasi a spessore zero, infatti se vediamo questo casco al momento è vuoto, è un insieme di pellicole e fogli di carta collegate insieme. Il presupposto fondamentale per andare a creare comunque questo tipo di modellazione rimane comunque la creazione di schizzi, però nelle superfici in genere si vanno a creare delle strutture, che possono essere 3D o meno, che vanno a dare delle guide alla creazione effettiva delle superfici. In questo caso come vedi si può già notare che c'è tutta la struttura del casco di Iron Man in questione, che poi diventerà questo. Prendiamo come esempio questa serie di schizzi che ho creato, un rettangolo con due archi e un arco che congiunge entrambi, che in questo momento non riesco a farvi vedere altrimenti sforiamo il tempo massimo, ma vorrei farvi vedere come funzionano le superfici, quindi se voglio andare a creare un solido a partire da questo schizzo qui, prendo il comando patch per esempio, e dico comincia a riempirmi le superfici, per esempio questa, posso dammela riempire con il comando patch e ho creato una superficie. Queste altre, posso selezionare questo arco e il lembo della superficie sotto e vado a collegarmene insieme. Stesso discorso, riprendo il comando patch, prendo questo arco con questa qui. Per creare invece magari una superficie che mi va a collegare varie superfici insieme con la curvatura, posso utilizzare il comando loft, che mi chiede qual è il primo profilo, questo qua, qual è il secondo profilo, questo qua, ok, te l'ho già collegato insieme, però io voglio farlo con una curvatura, prendo i rails, una centerline, e seleziono questo arco qui. Vedete che mi ha dato che era una superficie vuota per il momento, però mi va a collegare come volevo questo. Ora ci sono due buchi qui, se voglio chiuderla completamente, vado sempre a utilizzare il comando patch, quindi prendo questo e questo e me li chiudo insieme. Prendo questo e questo e me li chiudo insieme. Bene, adesso cosa si faccia? Ho Alessio con tutte queste superfici che mi fanno disegnare, beh, almeno un paio di cose. Potrei unirle tutte insieme con un comando stitch, cucitura, che una volta selezionate insieme tutte le superfici, mi va a creare un solido che è la somma delle superfici. Quindi a questo punto non più le superfici, ma un solido, come se l'avessi modellato con le tecniche tradizionali che abbiamo visto finora. Oppure potrei andare a utilizzare il comando tick-en, quindi inspessimento, selezionare una superficie e andare a inspessirla in una maniera, selezionarne un'altra o una somma delle altre, per esempio tutte quante, e andarle a inspessire anch'esse in un'altra maniera. A questo punto ho due solidi, uno è la parte sopra e l'altro è la parte sotto. Quindi prendete come per buono questo esempio banalissimo per capire come funziona effettivamente la logica nella creazione delle superfici. Poi ovviamente per arrivare al casco di Iron Man c'è un po' di strada da fare. Ciao, oggi ti parlo brevemente delle T-Splines, ovvero l'ambiente form che possiamo trovare all'interno della modellazione solida. Le T-Splines ci permettono di fare un tipo di modellazione su Fusion che è più vicina a quello della scultura, quindi per esempio questa testa di Super Mario. Cosa sono le T-Splines? Come è stata fatta questa testa? Sono una sorta di superfici che però sono già tutte collegate insieme e suddivise. Quindi quello che possiamo andare a fare è per esempio andare a prendere dei lembi, delle suddivisioni, e andare a manipolarle come se stessimo manipolando in qualche maniera della plastilina. Ok, per creare una T-Splines vado nell'ambiente solido e utilizzo il comando Create Form, che trovo qui. Il comando Create Form mi permette di entrare appunto nell'ambiente di modellazione T-Splines, dove ho tutta una serie di comandi, moltissimi. Per creare velocemente una T-Splines possiamo utilizzare il comando Create Box. Cosa fa? Ci va a chiedere un piano su cui appoggiare uno schizzo che farà partire la T-Splines, che per un box è un rettangolo, quindi seleziono un rettangolo. Una volta che ho finito di cliccare automaticamente mi va a creare la mia T-Splines, che con il specchietto di creazione posso già andare a suddividere in diverse maniere. Si può andare a mettere anche una simmetria su varie assi, quindi una volta poi che andremo a toccare qualcosa sulla destra di questo asse si andrà a applicare anche sulla sinistra. Ora se faccio un tasto destro, per esempio su questa faccia, e utilizzo il comando Edit Form, mi va a aprire la modifica della T-Splines. In questo caso potrei semplicemente andare a tirare la mia faccia in alto e andare a modellare questo rettangolo con queste due gobe qui. Se premo OK ho salvato la mia modifica. Ora posso andare a fare un miliardo di cose, ovviamente una volta che ho finito, il bello della T-Splines è che se faccio Finish Form, questa T-Splines non è più una superficie ma è un solido pieno. Infatti se vado a fare un'analisi di sezione possiamo vedere che la sezione mi dà un volume pieno dentro. Quindi veramente un ambiente di modellazione molto potente perché ci permette di andare a fare dei solidi complicatissimi utilizzando una modellazione manipolativa dove vado a prendere delle facce, le tiro, le modello un po' come voglio e quindi posso permettermi poi di andare a fare per esempio questo Super Mario con questo cappello banana. Ciao, oggi vorrei parlarti dell'ambiente di modellazione lamiera, sheet metal, che troviamo in Fusion, che ci permette appunto di lavorare con le lamiere e creare dei carter o dei telai come questo. Ma qual è la differenza tra una modellazione solida e una modellazione lamiera? Perché effettivamente questo oggetto si potrebbe fare anche in modellazione solida. La differenza sostanziale è che le lamiere hanno delle proprie regole e ci danno soprattutto la possibilità di avere quello che è il risultato finale che vogliamo ottenere con una modellazione lamiera, ovvero lo steso, il flat pattern, che è il modello 3D spiegato su quello che effettivamente è un foglio di lamiera. Infatti la produzione di lamiere si applica su fogli di lamiera con taglio laser e quindi se avrai bisogno di produrre delle lamiere dovrai effettivamente fornire quello che è lo steso in formato DXF che possiamo esportare all'interno di Fusion. Come si va a disegnare una lamiera? Si parte sempre da uno schizzo. In questo caso si può andare a disegnare una serie di linee che possono essere per esempio il profilo di un carter che vogliamo andare a creare, per esempio un C di questo tipo. Faccio finish sketch, a questo punto utilizzo il comando flangia che è l'equivalente di un comando estrusione però nel mondo lamiera. Quindi se io tiro, vedete che dallo schizzo mi viene fuori, posso farlo anche simmetrico, la mia lamiera con uno spessore che lo prende dalle regole di lamiera che siamo andati a creare, nei modify che in questo video non riesco a farvi vedere. Creato la mia flangia di lamiera, posso andare a creare delle pieghe aggiuntive, sempre con il comando flangia, se per esempio prendo questo lembo e tiro in giù la mia freccina, mi va a creare una piega. La cosa comoda del lamiera rispetto alla modellazione standard è che mi va a creare già gli scarichi che sono adatti a fare in modo che questo oggetto venga poi fatto correttamente una volta piegato, quindi raggi di curvatura, eccetera, eccetera, tutte cose che sono già all'interno di Fusion che possiamo andare a modificare nelle regole. Una volta che ho creato il mio carter, come vi dicevo, per andare a creare lo steso, c'è un comando qui che si chiama create flat pattern, crea lo steso, se prendo uno dei vari lati della mia lamiera, prego ok e mi va a creare lo stesso. Ciao, oggi ti mostro come andare a fare un rendering all'interno di Fusion, quindi per andare a fare un fotorealismo con colori e materiali più convincenti del nostro progetto. Qui sulla sinistra abbiamo l'ambiente render che ci apre appunto tutte le possibilità. Una delle più semplici è quella del comando apparence che ci permette di cambiare colori e materiali ai corpi del nostro progetto. Quindi qui in fondo abbiamo un elenco di tutti i materiali disponibili, tra cui metalli, specchio, verniciatura, plastiche, e qui sopra, per esempio, possiamo salvarci dei colori che possiamo andare semplicemente a trascinare sul nostro modello 3. Una volta che abbiamo i colori che ci servono per fare un fotorealismo, basta andare a utilizzare il comando in canvas render, oppure il comando render, ma questo funziona sul cloud di Fusion, quindi in genere ha un costo, viene un render migliore, ma ha un costo. Quello gratuito che possiamo fare tranquillamente nel nostro computer è in canvas render. Prendiamo qui e automaticamente comincerà a elaborare la nostra immagine fino a renderla effettivamente più fotorealistica di quello che avevamo prima. Una volta conclusa l'elaborazione possiamo andare a fare un capture image, quindi salvare l'immagine elaborata e andare a utilizzarla per progetti o farla vedere ai clienti in maniera un po' più carina, insomma.